Chiara Ferragni e Carly Eclos insieme per Swarovski Due bionde brillanti per una campagna brillante, si tratta di Chiara Ferragni e Carly Eclos, insieme per Swarovski con lo spot per la nuova stagione, Cancelletto Brilliance Foral, che sottolinea ulteriormente la principale caratteristica degli splendidi gioielli di cristallo. Chiara Ferragni e Carly Eclos, una coppia brillante per Swarovski Swarovski ha scelto due splendide bionde internazionali per la propria campagna brilliance for all, stiamo parlando di Chiara Ferragni, la fashion blogger di Cremona e californiana d'adozione, e Carly Eclos, splendida top model dell'Illinois. Entrambe sono due personalità nel loro campo e il marchio di gioielli ha fatto centro rivestendole di finissimi cristalli dalla testa ai piedi per il loro evento serale alla Milano Fashion Week. Le due ragazze sono giovanissime e dal talento incredibile, più volte riconosciuta a livello globale. Una prova? Carly, di soli 25 anni, è stata eletta dalla rivista Time come una delle 100 persone più influenti del pianeta come icona di moda, e anche Chiara si difende piuttosto bene, Forbes l'ha dichiarata una delle 30 under 30 più promettenti, mentre per Boff è una delle 500 persone più influenti del fashion world. Oltre al talento, condividono la passione per i blog, che per Chiara è diventato un vero e proprio lavoro visto che grazie a te blonde Salada ha sancito il suo successo planetario, costruendo la sua strada nel mondo della moda giorno dopo giorno, dal 2006 a oggi. La Clos? Dal 2011 sfila per Victoria's Secret, e la collega Bianca Balti sa quanto sia difficile far parte della strettissima selezione di modelle che possono calcare la vita passerella del Winter Show. Nel 2017, però, lascia il marchio di lingerie, per dedicarsi a Swarovski e a Express, griffe americano per cui fa anche la stilista. Le fa eco, ovviamente, anche la fashion blogger, il 23 settembre, infatti, inaugurerà la sua Chiara Ferragni Collection a Milano, nel primo flagship store personale e non è l'unico progetto per cui veste i panni di Stilist. Per intimissimi, come i suoi fan sanno perfettamente, sta confezionando gli abiti per lo show On Ice a Legend of Beauty che andrà in scena il 6 e il 7 ottobre all'Arena di Verona. Insomma, due ragazze talentuose e poliedriche come le mille sfaccettature di un diamante di cristallo Swarovski, la Maison non poteva scegliere di meglio. Chiara e Carly è al party di Swarovski, ma accade l'imprevisto. Dopo una capatina nel pomeriggio presso lo store di Swarovski, dove si sono scattate un selfie, le due testimonial si preparano per il party della sera, uno dei primi eventi della Milano Fashion Week 2017. Carly e Clossi presenta sul Red Carpe con un abito meraviglioso, con affascinanti asimmetrie che dividono il vestito in due sezioni rosse e nere, costellate da centinaia di migliaia di cristalli Swarovski. Anche Chiara Ferragni appare stupenda all'evento, il suo minidre ser rosso porpora e le lascia scoperta la sensualissima schiena. Appena il tempo di sfilare sul Red Carpe e che accade l'imprevisto, Chiara rimane in topless per qualche secondo, visto che l'unica spallina del vestito ha maliziosamente ceduto. Ma niente paura, il cambio d'abito è pronto e l'influencer indossa un vestito argentato, ancora più brillante del primo.